Sabato 2 settembre, nella chiesa madre di Terrasini, come una sorta di preludio alla festa del quotidiano cattolico a venire, si è tenuta la presentazione del libro Storie di sangue, amici e fantasmi, di Pietro Grasso, presidente del Senato. Sono intervenuti, oltre all'autore, Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, Danilo Paolini, capo redazione romana di Avvenire, e le letture dei brani tratti dal libro sono state affidate all'attore Sebastiano Lomonaco. Si riprenderà dal 14 al 17 settembre, con quattro giorni in una trama di celebrazioni liturgiche e catechesi e incontri, momenti di dialogo, riflessioni e approfondimento sulle virtù e la loro bellezza, quelle teologali della fede, della speranza e della carità, e quelle cardinali della prudenza, della giustizia, della fortezza e della temperanza. Un accostamento virtù bellezza da collegare allo splendore musivo che caratterizza la cattedrale di Monreale nel suo 750esimo anniversario di dedicazione. Nel suo libro Pietro Grasso torna a percorrere le strade di Palermo, l'aula del maxiprocesso, le campagne rifugio delle aditanti, editante, troppe scene del crimine in cui ha dovuto scorgere il cadavere di uomini dello Stato trucidati dalla mafia, di amici portati via troppo presto. La prefazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conosciuto da Grasso durante le sue indagini sull'assassinio del fratello Piersanti, e ritrovato 35 anni dopo ai vertici delle istituzioni repubblicane, suggella questo straordinario libro che non rinuncia all'emozione personale, ma vi affianca sempre all'analisi del magistrato e la prospettiva storica di chi è molto riflettuto sul fenomeno mafioso. Una lettera a Giovanni Falcone e una a Paolo Borsellino aprono e chiudono questo libro. Nino Cardinale, la sua associazione così per passione si è fatta promotrice dell'evento assieme a tante altre. E allora, siamo alla seconda edizione, perché già l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione, e l'abbiamo fatto con l'ufficio comunicazioni sociali della diocese di Monreale, diretto da Antonio Chimenti. E' chiaro che c'è la diocese impegnata, la cattedrale di Monreale, perché quest'anno la improntiamo sulla virtù, le bellezze della virtù, con la bellezza o le bellezze della cattedrale di Monreale, che fa 750 anni della sua dedicazione. Dunque, dopo il successo del primo anno, si replica anche quest'anno, con una serie di incontri, vogliamo ricordare quali? Allora, iniziamo oggi col Presidente del Senato, Grasso, e poi saltiamo a giorno 14 con Leo Luca Orlando, il giornalista Paolo Del Debbio, con il allenatore della squadra nazionale di Pallavolo Berruto, i Vescovi Stagliano e il Vescovi Gisana, il nostro stesso Vescovo Monsignor Pennisi, e poi chiudiamo con la Presidente della Camera, Boldrini, e con altri giornalisti. C'è il Direttore di Avvenire, Marco Tarquino, che quasi quasi rappresenta il padrone di casa, perché è la festa del giornale Avvenire. Siamo col Sindaco Giosuè Maniaci, oggi una giornata importante, una serata importante, con la presenza del Presidente del Senato, Pietro Grasso, dunque un valore aggiunto per il Comune di Tarasini. Molto importante, siamo stati ben lieti e felici di ricevere il Presidente a casa nostra. L'opportunità che ci ha dato l'Associazione Così per Passione l'abbiamo colta subito, l'abbiamo sponsorizzato, ed è veramente un onore poter ricevere il Presidente del Senato in un piccolo comune come quello di Tarasini. Quindi a nome mio, a nome della comunità di Tarasini, daremo il benvenuto, così come diremo grazie all'Associazione Così per Passione, che ha organizzato questo evento, ma organizzerà la settimana dell'Avvenire ricca di tante altre interessanti iniziative, ricca di tante altre personaggi interessanti. Sua eccellenza, oggi si apre una grande festa del giornale Avvenire con la presenza del Presidente del Senato, Pietro Grasso, che presenta il suo libro. Sì, ecco, mi pare importante che il Festival di Avvenire, che quest'anno si tiene qui ancora una volta a Tarasini, coinvolga grosse personalità. Oggi ci sarà il Presidente del Senato, quindi la seconda carica dello Stato. Giorno 17 ci sarà il Presidente della Camera. E poi a Monreale ci sarà anche un rappresentante della Santa Sede, il Giugio Di Matteo, che presenteranno il libro del Cardinale Tarkos sulla corruzione. Mi pare importante che quest'anno questo Festival sia improntato sulle virtù, sulle virtù teologali, ma anche sulle virtù cardinali. Certamente il tema della giustizia, che viene affrontato nella presentazione di questo libro del Presidente Grasso, è una cosa importante. E poi il fatto che si faccia in chiesa questa presentazione mi pare una cosa molto significativa. Un lavoro importante è quello che svolge il giornale Avvenire sul territorio, sul panorama cattolico. Sì, svolge un lavoro veramente molto importante, un lavoro anche qualche volta controcorrente. Per esempio Avvenire ha fatto tutta una campagna contro la ludopatia, cioè la malattia del gioco, che non è molto popolare, magari perché contrasta con alcuni grossi interessi. E poi Avvenire è un quotidiano che veramente si qualifica per il suo impegno culturale, per il suo impegno religioso e sociale. Danilo Paolini, si apre oggi questa grande festa con la presenza del Presidente del Senato, Pietro Grasso? Sì, devo dire che è un grande onore essere stato chiamato qui a presentare, a commentare insieme al Presidente e a Sua Eccellenza Monsignor Pennisi il libro del Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato e per noi di Avvenire è anche un orgoglio avere questo preludio di festa proprio con questa occasione così importante. 25 anni dei tragici fatti di Capaci e di Via D'Amelio non bisogna dimenticare. Bisogna tenere viva non solo la memoria ma anche la speranza. Devo dire che questo libro del Presidente Grasso è intriso di speranza. Qual è il lavoro che svolge sul territorio il giornale? Il giornale, noi siamo un quotidiano nazionale, uno dei principali quotidiani nazionali italiani ma cerchiamo di essere con attenzione su tutti i territori, non soltanto sulle grandi città e di raccontare anche il bene che c'è e non soltanto il male che purtroppo esiste e che dobbiamo registrare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.